Tutto ciò che ho fatto, quello che ho passato, è come se mi desse più sicurezza. Ma visto che l'età avanza, ora ho anche più paura. Andiamo a Parigi. È pazzesco! Siamo più forti, siamo più furbi. L'anno delle Olimpiadi è molto stressante. Ci sono moltissime emozioni, non è solo ginnastica. Non sai mai cosa può succedere. È come se ti venisse da vomitare, piangere, fare pipì, tutto insieme. Ho lavorato 27 anni per questo. Ora che sono cresciuta, il mio corpo è una bomba pronta a esplodere. Per strada sono tipo, sono giovane. In palestra invece... Ho sentito il polpaccio tirare tutto il tempo. È un caso di déjà vu? Dopo la gara le ho chiesto come ci sei riuscita soffrendo così tanto. Ha risposto, non volevo che mi dessero di nuovo della codarda. È stato a questo attrezzo che sono iniziati i problemi a Tokyo. La cliente riesce a infiammarti il cuore più di questo. La determinazione verso un obiettivo è avere una sola chance per realizzarlo. E vedo una persona diversa. E quella che vedo mi rende felice. Vogliamo essere più umani possibile l'uno con l'altra perché è dura stare sotto i riflettori. L'obiettivo è vincere le Olimpiadi. E poi staremo a vedere. Lo dico solo a voi. Adesso fate un respiro profondo.